Una delle strade di accesso alla scuola materna ed elementare Serroni di San Nicolò a Tordino è stata completamente risistemata ed è stata inaugurata questa mattina. Finalmente, dobbiamo dire, perché veramente la situazione qui era disdicevole, c'era una strada bianca con buche enormi, quindi creava tantissimo disagi ai genitori che venivano a accompagnare i loro figli qui, ma soprattutto anche adesso anche i giardini diventano più fruibili, quindi un problema che si trascinava da anni e anni. Finalmente, grazie all'impegno di tutta l'amministrazione, grazie all'impegno anche dell'impresa che poi ha realizzato quest'opera, c'è stato un accordo urbanistico che poi tra l'altro al Comune non è costato nulla. Che tipo di intervento è stato fatto, a parte riasfaltare proprio la strada? È stata fatta tutta la cordolatura, la sistemazione della strada, della segnaletica, abbiamo provoluto noi come amministrazione. Però, veramente, lei non immagina cosa era qui, forse non se lo ricordo, ma veramente era qualcosa di disdicevole. Quindi un risultato importante, dobbiamo andare in questa direzione, anche con accordi, quando si possono fare accordi urbanistici di scambio tra quello che si concede e quello che si ha, è un risultato importante per San Nicolò, per tutta la comunità, perché veramente era una situazione inaccettabile. Quindi adesso cercheremo di dare anche attenzione più alla cura di questi giardini, che possono essere, renderli più usufruibili anche per le scuole, per i bambini di questa scuola. Questo intervento è stato possibile grazie anche alla collaborazione del Comitato di Frazione di San Nicolò? Assolutamente sì, c'è stata la massima collaborazione, loro hanno presentato le proposte, quindi abbiamo tenuto conto delle loro giuste istanze, quindi ringraziamo anche il Comitato di Frazione per aver dato questa collaborazione, per aver portato utili suggerimenti di cui abbiamo tenuto conto. Quindi un ringraziamento anche a loro. Un intervento è importante non solo per il decoro, ma anche per la sicurezza? Assolutamente sì, erano anni che noi genitori del Consiglio d'Istituto, rappresentanti, ma tutti aspettavamo questo intervento perché per la sicurezza, per il decoro, per tutto era fondamentale. Oggi dunque è un giorno importante per voi? Siamo contentissimi, sembra di stare in una nuova scuola, in un nuovo quartiere, quindi siamo veramente contenti. Dunque questo è un intervento importante che chiedevamo da molti anni, la sistemazione della viabilità all'esterno della scuola per favorire l'ingresso dei bambini, l'uscita, l'arrivo degli scuolabus e anche per favorire in caso di emergenza l'evacuazione ordinata della popolazione scolastica. Abbiamo avuto degli interventi all'interno della scuola, del plesso Serroni della scuola primaria, per consentire il transito dei bambini del tempo pieno nel refettorio della scuola dell'infanzia. I lavori si sono svolti quest'estate, si sono conclusi regolarmente, quindi l'anno oggi si avvia regolarmente.